Giuseppe Formato, presidente della Bocciofila Monforte, siamo giunti alla finale di raggruppamento di questo campionato. Siamo giunti alla finale con la Viterbese, doppio confronto nel campionato di società di prima categoria, ovvero in quella Kermess in cui partecipano gli atleti di categoria A. Noi c'eravamo prefissati l'obiettivo di arrivare alle Final 8, siamo a un passo, ora c'è questo doppio confronto in casa contro la Viterbese e sabato 30 a Viterbo contiamo di qualificarci per le Final 8 Scudetto e sarebbe la prima volta che una società molisana prenderebbe parte alle finali per giocarsi lo scudetto di categoria. Una squadra, questa della Monforte Campobasso, che è arrivata alla finale di raggruppamento con tutte vittorie e ha dato soddisfazione alla società ma all'intero movimento boccistico. Quasi come scherzo del destino, cosa pure accaduta quasi mai, credo, in Molise, con la squadra di terza categoria, ovvero quella composta da giocatori di categoria C, siamo giunti allo stesso livello, ovvero sempre alla finale di raggruppamento e il doppio confronto in quel contesto ci vede affrontare Cosenza. È stato un periodo difficile dopo la pandemia, ora abbiamo cercato di ripartire anche col supporto del Comitato Regionale del Presidente Angelo Spina, che è socio della Bocciofila Monforte Campobasso, e per poter creare un polo boccistico a Campobasso, una città dove convivono tre società che cercano di dare modo, spazio a tanti appassionati di bocce nello svolgere la propria disciplina sportiva. Bocciofila Monforte che, come hai detto tu, ha avuto un periodo di difficoltà, adesso però ha riaccesi motore e in movimento e a noi verrà, oltre ai giocatori un po' più anziani, si stanno avvicinando anche i ragazzi a questo gioco delle bocce. Sì, le bocce sono lo sport per tutti, per antonomasia, danno l'opportunità di giocare, quindi fare attività sportiva alle persone dai 3-4 anni, appena riescono a mantenere una boccia in mano, fino all'ultimo giorno della propria vita. Questa è proprio la forza delle bocce, uno sport che permette anche ai disabili, ma anche ai disabili gravi, di poter giocare e esprimersi a livello agonistico, anche a livello nazionale e internazionale. Noi, da par nostra, per quanto riguarda la Bocciofila Monforte, abbiamo un gruppo di atleti senior, abbiamo qualche donna che si sta avvicinando alla nostra disciplina sportiva, abbiamo dei ragazzi e soprattutto con la cooperativa Sirio abbiamo un progetto con le persone con disabilità che frequentano i locali della nostra associazione per lo più di mattina, dove durante le ore appunto mattutine vengono alla Bocciofila Monforte per fare un po' di attività sportiva nell'ambito delle loro attività diurne. Grazie. 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 Grazie.